Buongiorno a tutti, siamo qui anche oggi dal bistruccio di Via Maffae 1, io sono Lilo Frigoli e oggi siamo qua per presentarvi una ricetta, una pasta fresca primaverile con rucola e basilico, ripiena di ricotta di bucola ed erbetti. Andiamo a frullare la nostra rucola sbollentata, qualche secondo con un pizzico di sale, strizzata, aggiungiamo giusto un filo d'olio per agevolare l'immersore, creiamo come un pesto, una crema di rucola, questa ci servirà poi a fare l'impasto verde della pasta. Le erbette che abbiamo sbollentato e raffreddate anche il ghiaccio, le strizziamo molto bene, andiamo a fare una julienne veloce e le ripassiamo in panella con un filo d'olio, uno spicchio d'aglio se ci piace e qualche foglia di basilico per andare ad aromatizzare un po' di bucola. Una volta saltate le andiamo con la ricotta, il parmigiano e le uova. Facciamo scaldare bene. Facciamo scaldare bene. E' una volta pronto lo lasciamo a spiegare 10 minuti, 4 ore, anche fuori dal filo e poi andiamo a fare il nostro litiero. Scegliamo bene la nostra ricotta di bufala, togliamo l'acqua in eccesso, la strizziamo e la lasciamo magari riposare 5-10 minuti in frigo. Vediamo che i nostri ravioli non si andranno a rompere in cottura. Siamo pronti per fare il nostro ripieno, qua abbiamo le nostre erbette raffreddate, la nostra ricotta di bufala, e il nostro uovo intero e i nostri 100 grammi di parmigiano. Adesso se abbiamo un sac a poche andiamo a riempire un sac a poche per fare il ripieno. Se no possiamo tenerlo anche nella ciotola, con un cucchiaio andiamo poi a posizionarlo nei ravioli, quando dovremo andare a chiudere. Io il sale non lo metto perché c'è già il parmigiano, ma è una grattata di petersi. Mettiamo il sac a poche, che ci aiuteranno a fare il ripieno dei ravioli. Pronti per andare a riempire i nostri ravioli verdi. Ok, adesso qua prepariamo l'impasto della pasta all'uovo. Su un chilo di farina io divido 700 grammi di farina 00, 300 grammi di farina a semola di macinata, 20 rossi d'uovo, quindi ogni chilo di farina 20 rossi d'uovo, 2 rossi d'uovo ogni 100 grammi di farina. Qua abbiamo la nostra crema di rupola che abbiamo frullato precedentemente, un filo d'olio di oliva per l'impasto e un pizzico di sale. Procediamo, mettendo la farina. 2 uova. Questa la sciacqua anche con un uomo di acqua. Giroci dentro, 2 rossi uova. 2 uova. Su un chilo di farina massimo 10 grammi di sale. Eccoci qua. Andiamo a impastare lentamente per 10 minuti circa. La pasta viene incorpora bene ai liquidi. La lasciamo lavorare per una decina di minuti, non troppo veloce, e poi la lasciamo riposare una volta. Allora, siamo pronti per andare a stendere la nostra pasta e riempirla con la nostra farcia di ricotta. Ci tagliamo dei pezzettini non troppo grossi, di queste dimensioni, e cominciamo a stendere. Un po' di farina mista, semola e bianca. Ho io la fortuna di avere una stendipasta elettrica, per chi non avesse lo stendipasta elettrica va bene anche il mattarello, o sennò quella manuale. Adesso stringiamo di due alla volta, siamo partiti da 10, 8, 6, prima di avere uno spessore di un millimetro. Teniamola sempre infarinata, la sfoglia, se no si incolla. Possiamo anche incordarla la pasta, se vi sembra troppo molle la piegate su di si stessa, in due o tre volte a modo di libro, e poi la ripassate al lato opposto nello stendipasta, in questo modo. Così rimane più elastica, un po' più dura. Quindi riuscirete poi a lavorarla meglio una volta che andate a rimettere il ripiero. Lo stampo che più vi piace, ne ho preso uno medio di 8 centimetri circa. Ci facciamo la forma del raviolo, in modo tale che non andiamo a esagerare col ripieno, sappiamo quante ne dobbiamo fare, e non sperchiamo né pasta né ripieno. Steso la pasta andiamo a spalmare bene l'uovo, in modo che le parti si rincolano perfettamente. Poi abbiamo la nostra faccia, la stenda apposcia. Andiamo a ricoprire con l'altra pasta stesa. Andiamo a schiacciare bene intorno al ripieno per far uscire l'aria d'aria violenta, se no ci rischiamo che scoppiano in cottura. Poi se avete una tazzina o qualcosa di simile per insegnarvi bene i bordi, in modo che il ripieno non ne esce più. E questi sono i nostri cappellacci. È proprio una forma di cappello, con poco bordo, che a me piace sentire il ripieno della pasta, più della pasta. E poi li potete conservare in frigo, senza problemi, li potete anche congelare, meglio ancora, così li potete consumare quando preferite. E poi bastano 3-4 minuti di cottura in acqua bollente e salata, e sono pronti. Ora magari vi faccio vedere una ricetta veloce veloce, giusto per farvi sentire il profumo di questi ravioli, con un po' di burro e salio, burro e spezie. Siamo pronti, li mettiamo a riposare un quarto d'ora, 20 minuti in frigo, mentre ci prepariamo con l'acqua e il sugo del raviolo. Arrivati finalmente alla fase più bella, la fase finale dove andiamo a stagiare. Qua abbiamo i nostri ravioli pronti, ci siamo fatti in una fase di burro, salvia, origano fresco, timo e erbe che più vi piacciono. Con un pizzico di sale, acqua bollente e salata, ve ne consiglio 4, 5, 6, massima porzione, sono belli pieni. Lasciamo cuocere i ravioli un paio di minuti. Lasciamo cuocere i ravioli un paio di minuti. Lasciamo cuocere i ravioli un paio di minuti.